Il questore di Pescara Liguori ha evidenziato l'attività delle forze dell'ordine e ha invitato i cittadini a collaborare ad essere sentinelle del territorio. In particolare ha parlato di due episodi con tre arresti che si sono consumati nella notte a Pescara. Il primo in Vialago di Capestrano dove falsi carabinieri hanno rapinato un uomo che si è accorto che qualcosa non andava e si è messo a urlare facendo intervenire i cittadini scesi in strada che hanno chiamato subito la polizia. I due sono stati arrestati poco dopo per rapina aggravata. Altro episodio furti su un treno di passaggio a Pescara dove si trovava un uomo con una donna quest'ultima accusata dei furti finita in manette. Il questore ha ancora una volta messo in evidenza l'importanza della sinergia tra cittadini e forze dell'ordine. Intanto ci si prepara anche all'attività di prevenzione nella notte di Halloween. Mi è piaciuto sottolineare in questo incontro che ho voluto con voi in relazione a questi tre arresti che sono avvenuti la notte scorsa proprio questa sinergia che deve esserci e deve essere costante il servizio che viene fornito ai cittadini. Questa sinergia che c'è stata tra Polizia di Stato come Questura, Sala Operativa sia come sezione di Polizia Stradale e sia come compartimento di Polizia Ferroviaria. Abbiamo avuto due episodi, una rapina piuttosto allarmante nel centro cittadino in cui due soggetti che venivano da fuori regione, in questo caso dalla Puglia, qualificandosi quali carabinieri hanno inteso compiere una rapina e poi volevano proseguirla presso l'abitazione del soggetto. Questa cosa è stata neutralizzata sul nascere, sono stati arrestati grazie alla collaborazione propria e alla sinergia tra gli equipaggi e all'apparato preventivo della città che è molto efficiente e ringrazio i miei agenti per questo. E poi c'è stato un altro episodio che ha riguardato in pratica un treno. Sì, c'è stata una serie di furti su un treno a lunga percorrenza, i treni sono delle città itineranti, io un po' ho fatto la Polizia Ferroviaria quindi sono uno Stato nello Stato, quindi siccome c'è una sorta di isolamento a volte per i reati perché iniziano a fare dei dei reati in uno scompartimento, iniziano magari a Torino dove è partito il treno, poi fin quando arrivano a Lecce dove era diretto fanno 6, 7, 8, 10 furti e quindi se non c'è sinergia tra il compartimento, in questo caso la sala operativa compartimentale, sia di Ferrovia dello Stato ma sia anche del compartimento della Polizia Ferroviaria, è la nostra sala operativa che interviene, peraltro i treni non devono subire ritardo e sono molto orgoglioso che siano stati i miei uomini anche in questo caso questa notte alle 3.40 a fare un ulteriore arresto.